Il panorama è davvero qualcosa di unico, con una vista mozzafiato sul blu del mare e sui colori della montagna, con una prospettiva che dal paese di Marettimo spazia lungo l'arcibergo di Legadi, abbracciando la costa della Sicilia occidentale. Il castello di Punta Troia è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi di Marettimo, con un carico di storia ultrasecolare che porta indietro nel tempo a Normanni Saraceni, custodendo un patrimonio culturale raccontato nelle sale espositive allestite al suo interno dopo i lavori di restauro conclusi nel 2011. Nasce come torre di avvistamento Saracena, poi Normanni e soprattutto in spagnoli Lampara, Stuto e Castello. Invece durante il periodo borbonico viene adepito a carcere, uno dei carceri più duri durante questo periodo. Uno dei più importanti reclusi nelle celle di Marettimo è stato il generale Guglielmo Pepe, figura molto importante, che è stato rinchiuso per un anno, 1802-1803, e come descrive nell'esimo emore, la fossa di Marettimo, anagramma siciliano a morti mia. E poi da un paio di anni, questo è l'ospita dei bellissimi reperti della battaglia di Legadi, soprattutto il rostro di Legadi. Questa scoperta sarà soprattutto a con campo Sebastiano Tusa, poi quello che siamo detto è il sedicesimo, è il più pesante di tutti, pesa 209 kg. E' romano, ce l'accogliamo dalle decorazioni, dall'emba a Montefortino, e dall'incisione del questore che l'ha scompensionato. E due anni fa abbiamo in Castello ospita una bellissima ancora, è un ancora di origine litico-romano-punica, l'ha ritrovato un ragazzo di Marettimo e ce l'ha deputata pure a noi. Nel pieno superiore della fortezza c'è invece l'osservatorio della foca monaca, con dei pannelli dedicati al patrimonio naturalistico, e dalla veranda che si affaccia sul versante est dell'isola il panorama è di una bellezza spiazzante. L'altro lato è invece quello nord, che va dallo Scalo Maestro fino a Punta Mugnone. L'osservatore della foca monaca è un centro di informazione dell'area melepotetta, si spiega tutto il progetto della foca, che dopo tantissimi anni è ritornata, spieghiamo anche l'uccello del Tempeste, questo uccello pure protetto, che si trova a Marettimo nella zona A, soprattutto nella grotta della Fegarella. Poi spieghiamo anche soprattutto i cetaci, i delfini, il progetto anche della carretta carretta della tartaruga, e poi tutti i tipi di pesce che abbiamo nella nostra area melepotetta, e soprattutto anche la preteria di Posidonia Oceanica, che è molto importante per l'ecosistema marino. Il castello di Punta Troia è gestito dal comune dell'Egadi, ed è aperto alle visite registrando ogni giorno tantissime presenze. Si può raggiungere via terra attraverso un sentiero che dal paese arriva fino alla fortezza, oppure imbarca, sbarcando nei presi del percorso, che poi sale fino a 114 metri di altezza, e una volta arrivati su si scopre un luogo davvero unico. Tanti commenti positivi, soprattutto del pagimono storico e culturale che c'è all'Isola di Mariette. Come ho detto poco fa, il castello è l'embrema dell'Isola, quindi Marittimo è nato a Castello e alle case romane. E poi è una bellissima storia, il castello mi ha detto poco fa, diciamo dai saraceni fino ai spagnoli, ai borboni, e poi le stazioni militari telegrafiche.